Rieccoci tornati in studio, sta parlando la dottoressa Russo, come sapete parleranno un po' tutti i tecnici che sono nove, dopo ci saranno le domande dell'opposizione, quindi capiremo insomma al termine di tutta questa lunga relazione che cosa accadrà e come andrà poi questa riunione, questa commissione. Ciambetti ha sentito un po' quello che ha detto anche Beltramello e quello che stava dicendo adesso la dottoressa Russo che fra l'altro si era interrotta proprio perché non stava nemmeno benissimo oltretutto, qual è la sua opinione? Beh faccio fatica a seguire Beltramello quindi scusatemi ma faccio un po' fatica. Penso che quello che stiamo sentendo specialmente dalla parte tecnica che appunto ha gestito il Veneto in questi 14 mesi, 15 di pandemia è quello che è avvenuto. Ma voi lo avete seguito e per chi ha seguito le conferenze stampa del Presidente Zaia, per chi come noi consiglieri ha avuto le relazioni settimanali o quasi nella prima parte e adesso hanno una cadenza bisettimanale dell'assessore Lanzarin o del Presidente Zaia quando è stato chiamato in quinta commissione per spiegare quello che praticamente è avvenuto. Quindi io penso che tutta la struttura della sanità veneta sia la parte chiamiamola dirigenziale amministrativa, quella politica ma veramente chi è stato in prima linea invece tutti questi mesi ha gestito la situazione nel miglior modo possibile. E poi appunto saranno i numeri eventualmente a far capire il Veneto che risultati ha avuto nella gestione della pandemia. C'è chi dice che si poteva fare ben altro. Il benaltrismo, specialmente quando si è in piena emergenza, è un utilizzo degli argomenti e anche delle situazioni magari poco eleganti per tentare di creare una cortina fumogena, di paventare chissà cosa. Ripeto, ci sono degli esposti che vadano avanti, ci sono delle iniziative nuove che vengano messe in moto. Io penso che anche tutte le comunicazioni che vengono fatte in maniera ciclica da parte della Regione Veneto nei confronti delle procure interessate serva a far capire che, come ho detto prima, la massima trasparenza che abbiamo sempre impostato in questa situazione, penso sia utile veramente a far capire come ci si è mossi e come sono state prese decisioni anche nei momenti in cui era difficile ragionare e adattare le modalità operative nella normale operatività della Regione. Ad esempio, tornando a quello che si è fatto nei mesi di ottobre e novembre, oltre ai tamponi rapidi per quanto riguarda il controllo del personale sanitario o all'interno dell'RSA, misurazione della temperatura ad ogni inizio e fine di turno di lavoro, chi aveva raffreddore veniva immediatamente tamponato per verificare se stesse bene o meno. Quindi quello che si poteva fare, dal mio punto di vista, è stato fatto forse in maniera anche più puntuale e precisa che in altre realtà territoriali italiane. Beltramello? Sul fatto che chi era in prima linea abbia fatto il 200% di quel che poteva fare, non c'è dubbio, infatti lui non era in prima linea, lui era seduto a fare il politico e non riesce a seguirmi forse perché io parlo di cose tecniche e lui parla in politichese, lui è un politico di professione, no, almeno in questa fase della vita. Grazie, grazie, grazie. Quindi, visto che dice che non mi segue, allora vediamo se riesce a seguire questo ragionamento molto semplice. Nel momento in cui la dottoressa Russo dice che siamo arrivati in giornate in cui avevamo 4.000 nuovi positivi al giorno e per settimane abbiamo avuto 100.000 positivi in Veneto. Questi erano numeri da catastrofe e infatti poi le conseguenze si sono viste nell'eccesso di mortalità che abbiamo avuto purtroppo in quei mesi in Veneto. Allora, durante quella fase, visto che si torna sempre lì, è stato detto veramente da opposizioni, sindacati medici, sindacati degli infermieri, voglio dire, comitati di cittadini, che non c'era proprio niente sotto controllo, ovvero che l'epidemia era sfuggita. Anche perché fare il tracciamento di 4.000 persone a 9 persone al giorno, se ogni persona in media è venuta a contatto con 10 persone, vuol dire che in teoria noi ogni giorno dovevamo chiamare 40.000 persone, impossibile, ma non in Veneto, cioè impossibile. Quindi di fronte a questi numeri aver continuato a dire che andava tutto bene, che era tutto sotto controllo e questo, voglio dire, era contraddittorio proprio con quello che gli operatori sanitari vedevano, con le decine e decine di epidemie che purtroppo si sono sviluppate all'interno delle RSA con dei tassi di letalità vicini al 50% del totale degli infettati, alle volte anche superiori. Cioè la metà degli infettati, in alcune RSA si sono infettati tutti e la metà sono morti. Di fronte a una catastrofe così, cioè non continui a dire che è tutto sotto controllo, perché noi dicevamo, siccome non c'è niente sotto controllo, chiudi urgentemente, riduci le infezioni, fai sapere alla popolazione che siamo in una emergenza, dentro l'emergenza, quindi a tutti chiedi un senso di responsabilità assoluto. Non continuare a dire che il Veneto è il più bello del mondo e i Veneti siamo con il servizio sanitario migliore dell'universo, perché sarà anche vero, ma in quel momento lì non c'era sistema sanitario che potesse tenere un'onda d'urto di questo genere. È di questo che stiamo parlando e collegato a questo l'uso, ripeto, esclusivo dei tamponi rapidi in quei contesti di RSA e personale sanitario e personale dell'RSA. Allora, la dottoressa Russo che cosa ha detto? Eravamo di fronte a uno tsunami, cioè 100.000 positivi in un giorno, 3.000 presenti in Veneto e 4.000 nuovi infettati in un giorno. E quindi di questo si sta parlando, non si sta mettendo in discussione l'operato degli operatori sanitari. e voglio dire, ringraziamoli dalla mattina alla sera che non hanno mollato la barca in un momento in cui veramente hanno tirato fuori l'energia dell'energia 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 residua, perché era da un anno che tiravano come del mati, tiravamo, mentre dentro anche me. Voglio dire, però non voglio essere egoico in questo, io voglio dare un tributo a chi era proprio poi nelle terapie intensive, nelle semi-intensive, nel pronto soccorso, dove l'onda d'urto è stata clamorosa. Allora, non è in discussione la bontà del nostro sistema sanitario, è in discussione se si potevano fare delle scelte che avrebbero impedito la saturazione del sistema, ma impedito di far lavorare il personale in questo modo, impedito di far morire così tante persone in generale, nell'RSA in particolare. Di questo si sta discutendo. Ed è giusto che chi ha avuto, proprio perché Zai ha avuto una conferma elevatissima di consensi alle ultime elezioni, ritiene di essere una persona che dice di saper prendere decisioni e quindi chi prende decisioni si assume anche responsabilità delle decisioni, che prende o che non prende, in questo caso che non ha preso, secondo me. Ma voglio dire, conta poco quello che penso io nel merito, perché, ripeto, ci saranno indagini politiche della magistratura, non entro su quella roba lì, però sul fatto che, come dire, c'è stata un'onda di infezioni e di conseguenti morti che merita un'attenzione, una revisione, questo credo sia doveroso per prima di tutto ai cittadini veneti, ma proprio perché è bene gestirla con il massimo di trasparenza. Di questo si sta parlando. Ecco, Ciambetti, secondo lei è un'onda che si poteva evitare dunque? Io la verità in tasca non ce l'ho e tutte le certezze che ha qualcun altro io non le ho. Lo ripeto per l'ennesima volta. Questa pandemia si è mossa anche in zone dove c'erano misure più restrittive, colori più accesi, arancio e rosso, in maniera importante ed è ritornata in alcune altre realtà di questo Paese in maniera completamente, completamente slegata dal, ripeto, grado di chiusura. Quindi io le certezze che ha Beltramello io non le ho, sinceramente non sono un tuttologo, mi occupo di parecchie cose, seguo in maniera abbastanza approfondita quello che avviene in Veneto e dal mio punto di vista la Regione Veneto si è attenuta a quello che un governo nazionale che tra l'altro era agli antipodi di questa maggioranza in Regione Veneto si è attenuta a una classificazione e a 21 parametri decisi a livello di Istituto Tecnico Superiore della Sanità o da parte del CTS che ha messo in moto questa modalità di colori che ci sta accompagnando ormai da 7-8 mesi. Quindi il Veneto si è attenuto a quello che si stava facendo in quel periodo anche in tante altre zone d'Italia. Beltramello era più per chiudere che invece che per mantenere questi parametri ci mancherebbe, però io guardo ad altre realtà territoriali che hanno avuto zone rosse, che sono ritornate in zona rossa e ripeto questa pandemia si muove sicuramente in maniera molto molto diversa da zona a zona e in maniera in qualche caso anche difficilmente spiegabile e quindi... Scusi vorrei un attimo tornare in commissione perché potrebbero parlare in questo momento le opposizioni. Sentiamo un attimo. Tutta la documentazione è pervenuta e di qualsiasi altra cosa possa essere necessaria mettendo anche per conoscenza il dirigente che ha fornito il tutto, quindi in un'ottica di piena trasparenza. Questo perché? Questo per l'importanza dei tempi, le date entro i quali fornire i pareri. Tutto ciò naturalmente è a garanzia della funzionalità del tutto, se poi questo parere deve essere incluso in un documento, in un atto aggiuntale, per qualsiasi cosa. Quindi il rispetto dei tempi è stato ovviamente molto importante e chiaramente il tutto può essere fatto per via telematica, ma se c'è bisogno anche trovandoci, anche trovandoci in videoconferenza, quindi in un momento di confronto c'è assolutamente sempre. Il parere com'è che avviene? Il parere è con tutte le eventuali osservazioni che possono nascere, o con tutti quei suggerimenti, perché molte volte si tratta di poi di tradurre degli indirizzi e spiegarli in maniera più puntuale per una migliore applicazione, vengono trasmessi in maniera formale all'area sanità e sociale, concludendo in questo modo l'iter di approvazione. Tutti i documenti, pertanto, si intendono, vanno intesi come approvati, con un superamento della maggioranza dei componenti, quindi quelli erano i componenti, ad esclusione del coordinatore del comitato, che sono io stesso per scelta se l'ha fatto questo, e anche del coordinatore dell'OMS per le regioni per l'emergenza Covid, che pur non avendo espresso dei pareri così vincolati, ma comunque ovviamente riportati, devo dire che ha partecipato sempre in qualità di osservatore, fornendo degli spunti di assoluto interesse, proprio in assoluto in tutti i casi. È il dottor Zambon. Mi sento di ringraziarlo per la puntualità e la pressione con cui ha sempre collaborato con noi. Per quanto riguarda l'attività, dunque come incontri, 11 incontri, possono sembrare pochi, ma a fronte dell'approvazione di 49 documenti. Stiamo parlando di 14 mesi, quindi l'attività è decisamente importante, capitemi. Nel corso di queste riunioni abbiamo affrontato una serie di argomenti, alcuni, ripeto, ci sono tradotti in documenti operativi, altri incontri invece sono stati atti a valutare, per esempio, i modelli previsionali, atti a valutare magari qual era la migliore strategia per l'implementazione. Mi riferisco per esempio alla scelta dei setting assistenziali, l'implementazione, l'importanza di aver implementato e puntato in modo molto forte sul modello delle terapie semi-intensive. Quindi tutte cose che sono state affrontate nel corso delle riunioni del Comitato e sono poi tradotte anche in una serie di documenti come le flowchart, il professore Navalesi per l'invio dei pazienti Covid, la scelta del setting assistenziale maggiormente corretto, a mio avviso, e non solo, a mio avviso, è una delle cose vincenti in questo tipo di gestione. Poi anche un'altra attività, sempre di supporto a altri documenti operativi, come per esempio gli indirizzi sulla sospensione delle attività chirurgiche. Anche qui c'era un passaggio formale per capire la cosa, anche per cercare poi di dimensionarla, fino a delle proposte anche inviate, poi senza successo peraltro, anche a livello di CTS nazionale come il ricondizionamento dei caschi per la CIPAP, oppure anche fino a delle diffusioni di semplici documenti per gli indirizzi e per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Ultimo di questi incontri qua, faccio un esempio, è stato quello del 16 gennaio di quest'anno, è un incontro così, una proposta un po' inusuale, magari il professor Crisanti aveva scritto alla Presidenza, poi girata all'area sanitaria e sociale, ci siamo immediatamente trovati il giorno dopo per esaminare due progetti, uno riguardava la riapertura delle scuole, progetti intesi come progetti di sanità pubblica, il secondo riguardava una revisione dei requisiti strutturali, sempre anche delle RSA, erano delle relazioni piuttosto sintetiche, per le quali del primo, vado a citare il verbale, il primo quindi, quello sulla scuola, si riconfigurava a nostro avviso come uno studio pilota, e pertanto si rimandava all'acquisizione di un protocollo di studio, e siamo tuttora in attesa del materiale, per poterlo poi giudicare, anche con un doveroso coinvolgimento, peraltro, della direzione formazione di istruzione regionale, in quanto l'espressione di un loro apparele per la fattibilità fondamentale, il secondo invece riguardava questa revisione dei requisiti strutturali del RSA, come la conclusione era che non potesse poi concedere tanto a noi, fosse sicuramente auspicabile, poi questa piacevole notizia di un avvio di una riforma nazionale con la commissione ministeriale, quindi è ben, sicuramente, gradita, e anche va assolutamente in linea a quanto abbiamo già visto a gennaio. Documenti, ne abbiamo provati 49, quindi sono tantissimi, quasi tutti i provvedimenti, quindi, ma non solo i piani di sanità pubblica, anche tante altre cose, sono passate anche le circolari, le riaperture, le chiusure, le sospensioni dei test respiratori, tutte quelle cose lì, si è sempre fatto un passaggio, perché vorremmo fare proprio questo passaggio, questo passaggio tecnico. Per quanto riguarda gli incontri, quindi mi prema assolutamente ringraziare chi ha partecipato al 100% degli incontri, sono praticamente tutti, il professor Ballo, l'ottoressa Catellan, il professor Dalt, il professor Vianelli, e la partecipazione del professor Crisanti è stata un po' minora, solamente 5 presenze sulle 11 che ci sono state. Per quanto riguarda gli incontri ai quali ha partecipato, ha partecipato ai primi incontri, quindi, no, ci tengo per quanto riguarda gli argomenti trattati, non peraltro, non sta certo a me fare le paselle, ognuno sa, ognuno sa quando ha partecipato, se non crede altro. I primi tre i primi tre che arrivano al marzo del 2020, incontri nei quali non si è entrato in merito all'utilizzo dei test rapidi, poi ce n'è stato uno del 22 luglio, che però non si è, sempre 2020, che non si è concretizzato con un parere, ma solo una partecipazione, con, peraltro, l'aver fornito congiuntamente a altri quattro componenti un parere, poi portato nel verbale, e successivamente approvato. Mi avvio a concludere poi invece per quanto riguarda i documenti approvati anche qua, ripeto, sono 49 documenti in 14 mesi, capite che lo sforzo è stato importante, mi metto da parte io come coordinatore, ma devo dire che per i colleghi non c'erano sabati e domeniche, arrivavano spesso a fine settimana, arrivavano sempre questi parelli da provare, e quindi c'è anche in questo caso qua chi ha raggiunto il 96, 100% dei parelli forniti, quindi uno sforzo assolutamente importante, ripeto, articolato in 14 mesi con documenti anche decisamente voluminosi, mi preme anche qui dire come ripeto insomma che il professor Crisanti visto poi la corrispondenza che c'è stata tra il comitato scientifico e lui abbia fornito parere solamente tre volte su queste 49, l'ultima del 10 aprile del 2020. Mi avvio poi a concludere per quanto riguarda la corrispondenza intercorsa della quale insomma ho visto che è riportata anche sulla stampa recentemente ci sono stati in realtà due momenti uno tra il 18 e il 20 luglio del 2020 dove veniva richiesto di esprimere attraverso i canali istituzionali le proprie considerazioni ma il professore rispondeva peraltro cortesemente di non aver mai commentato atti del comitato quindi non c'era assolutamente problema. Per quanto riguarda la seconda invece quella che era sulla stampa recentemente risale al primo marzo del 21 dove a seguito di una serie di articoli uno in particolare che riguardava le varianti e l'utilizzo di test fallaci noi avevamo chiesto di fornirci tutto il materiale utile a condurre delle valutazioni in merito alla diagnostica laboratoristica con qualcosa quindi di fattivo di proattivo per poter darci gli elementi per valutare il professore ha risposto come peraltro riportato precisamente sulla stampa come il comitato ne sarebbe portato a conoscenza esclusivamente a pubblicazione dell'articolo scientifico avvenuto quindi senza condividere prima della pubblicazione dell'articolo alcunché con noi pertanto senza condividere assolutamente nulla in merito agli studi cui è stato fatto riferimento questa è l'attività del comitato ed è tutta naturalmente verbalizzata e trasmessa all'area io mi auguro di aver rispettato anche i tempi vi ringrazio per l'attenzione dunque quello che avete sentito era Mario Saia che è del comitato tecnico scientifico veneto abbiamo sentito le sue parole Ciambetti che cosa ci dice? beh Saia da coordinatore del comitato tecnico scientifico ha riportato l'attività che appunto è iniziata tra fine febbraio e del 2020 quindi riportando le cose penso più salienti che sono avvenute nel comitato tecnico scientifico quello veneto ricordiamoci che il nostro comitato è stato penso anche utilizzato e preso come diciamo interfaccia dal comitato tecnico scientifico nazionale e mi permetto anche di dire è stato in qualche caso parecchi è stato interlocutore con anche altre realtà sanitarie a livello europeo di altre regioni europee in molti casi altre regioni europee attraverso le nostre università quindi le aziende ospedaliere di Padova e Verona ma anche attraverso il nostro comitato tecnico scientifico hanno avuto interlocuzioni per scambio di buone pratiche e per capire magari ad esempio le terapie subintensive come le abbiamo utilizzate in Veneto faccio un caso rispetto a tante altre cose che invece appunto abbiamo fatto come realtà regionale in questo anno erotti di pandemia Beltramello Beltramello ce l'abbiamo ancora eccomi qua ha sentito sai è stata abbastanza puntuale facendo l'escursus proprio di quello che è stato fatto dal comitato diciamo che se si tenta di spostare il focus dell'attenzione su in generale come è lavorato il comitato tecnico scientifico in generale com'è il sistema sanitario del Veneto in generale cioè è chiaro che non serve a niente come dire se dobbiamo diluire rannacquare fare un calderone generale non è importante investire tempo in questi passaggi allora il certamente il comitato tecnico scientifico ha fatto un lavoro egregio e su alcune cose tecniche è stato anche punto di riferimento nazionale su questa cosa di cui stiamo discutendo il comitato tecnico centrava marginalmente sulla questione dei colori e della diffusione e da quello che mi risulta comunque anche dall'interno sono state mandati segnali importanti di dire guardate che il sistema è cioè stiamo facendo andare al 110% la macchina e rischia di rompersi o di non garantire appunto degli standard che dobbiamo garantire poi come dire questa cosa questa cosa non non era del comitato tecnico scientifico e tornando ai colori tornando ai colori ripeto il si sta fa parte delle indagini ma i dati sui quali l'algoritmo lavorava li manda il Veneto quindi si sta adesso ripeto non è che lo dico io perché avrebbe poco valore ma si sta indagando su questo appunto c'è stato proprio una esposta alla magistratura anche del Covesap del Comitato Veneto per la Salute Pubblica è ripreso anche dall'altro di quello che so io poi ce ne saranno anche altri indagini per capire se i dati inviati a Roma corrispondevano al vero o no si è parlato moltissimo dei posti letto in terapia intensiva allora i posti letto in terapia intensiva che erano uno dei parametri molto molto rilevanti il Veneto ha dichiarato 1030 e invece quelli operativi erano 700 allora possiamo stare a discutere se bisognava dire quelli reali operativi o quelli attivabili chiudendo tutto quello che si doveva fare in sanità e senza gli anestesisti perché gli anestesisti li abbiamo usati tutti su questo non è che ci sono dubbi e allora le altre regioni visto che anche il presidente Ciambetti vuole fare i parametri con le regioni tutte le altre regioni italiane non hanno avuto dubbi hanno messo i posti letto reali attivati quelli utilizzabili non quelli ipotetici usando personale non specializzato per le terapie intensive quindi su questo è ad esempio una cosa che il Veneto ha mandato giù non è che devo dare io il giudizio finale perché io non sono un tuttologo infatti sto parlando solo di sanità e sono un medico igienista ok e su questo però come dire non è che si può dare la colpa sempre a Roma come e su questo non c'è tema di smentita i governatori non possono mai i presidenti di regione abbassare i colori ma possono aumentare le restrizioni tanto che Zaia l'ha anche fatto per quattro giorni prima di Natale anticipando poi la decisione natalizia quindi dimostrando che quello che io sto dicendo è vero ecco mi sembra di capire che il punto centrale per lei è questo una cosa volevo chiedere mi pareva di capire prima lei diceva insomma secondo lei questa carrellata di tecnici sposta quello che sarebbe il punto focale della discussione mi sembra che si stia allargando un po' troppo il panorama quindi forse metodologicamente forse al di là di una doverosa breve introduzione del presidente poi forse le domande specifiche a cui magari si sceglieva di far rispondere questo o quell'altro tecnico forse così si andava un po' più dritti al punto però immagino che sia stata voluta questa cosa quindi evidentemente va bene così a chi ha deciso che dovesse essere organizzata così e non credo che l'abbiano deciso i miei colleghi consiglieri di opposizione colleghi insomma io non sono in consiglio regionale ma insomma i miei colleghi di partito che sono i consiglieri regionali di opposizione quindi a domanda puntuale poi si fa rispondere il tecnico però non è che non è che sono a processo a parte che ripeto non è un processo si tratta di un'analisi doverosa che nei paesi democratici vengono sempre fatte a livello nazionale locale quando c'è un qualche cosa di drammatico che è avvenuto in quella parte di società un'intera nazione quindi però in questo caso avendo dato la parola a 11 tecnici poi si perde un po' cioè quando viene detto un po' tutto dall'inizio alla fine si perde il focus a mio parere c'è un altro tecnico che è il dottor Paolo Rosi sentiamo un breve intervento poi volevo un attimo la replica di Ciambetti su questa questione proprio dei tecnici sentiamo un attimo l'intervento di Paolo Rosi quindi deve avere un monitor che si chiama multiparametrico che registra tutti i parametri del paziente questo è il singolo letto il letto va inserito in un contesto dove sono disponibili anche altre testature diciamo di sala riguardano ad esempio l'ecografo riguardano la centralina di monitoraggio per seguire tutti i pazienti riguardano l'emogassanizzatore ma in alcuni casi anche l'installazione di un attack al servizio della sala intensiva laddove quella centralizzata era troppo distante per poter garantire l'assistenza dei pazienti esistono poi delle caratteristiche dei locali che sono garantite quindi al di là della climatizzazione e degli adeguati ricambi d'aria ci deve essere una fornitura di ossigeno adeguata all'alto consumo perché se le tubazioni non sono adeguate le tubazioni ghiacciano e quindi non si possono assistere i pazienti ci deve essere l'aria compressa ci deve essere il vuoto ora noi di letti con queste caratteristiche ne abbiamo mille questi letti ovviamente non sono attivi sempre perché sarebbe piuttosto ridicolo tenere medici e infermieri a guardare dei letti vuoti quindi il sistema che abbiamo messo in piedi prevede la attivazione progressiva di questi letti disponibili come viene fatta questa viene fatta in base a un piano e sulla base del monitoraggio in tempo reale dell'occupazione di posti letto noi abbiamo avviato già da febbraio dello scorso anno un sistema di monitoraggio in cui sappiamo in tempo reale ogni singola letto di terapia intensiva se è occupato se è libero se è destinato a un paziente ordinario o se è destinato a un paziente covid in questo modo sia grazie alle provvedizioni sia grazie all'osservazione dell'andamento riusciamo a capire quando è necessario attivare ulteriori letti come si attivano questi ulteriori letti ovviamente reclutando il personale perché man mano che l'epidemia cresce vanno chiuse delle attività non essenziali il personale dedicato a questa attività viene trasferito a gestire le terapie intensive quindi ogni singola ULS tramite il coordinamento regionale emergenza urgenza riceve l'input di procedere ad attivare ulteriori letti questi letti hanno dei tempi di attivazione differenziati ci sono i cosiddetti letti creo che sono letti d'emergenza sempre pronti attivabili in pochissime ore se voi oggi andate all'ospedale di Jesolo troverete due stanze con dei letti pronti con i ventilatori però sono chiusi a chiave perché sono noi le chiamiamo in stand by e fanno parte di questi 191 letti di emergenza che oggi usiamo per il covid ma che in futuro potranno essere utilizzati anche per altri scenari incidentali come un incidente ferroviario piuttosto che comunque un'esigenza di dover far fronte a un numero elevato di pazienti critici in breve tempo poi ci sono i cosiddetti riconvertibili quelli riconvertibili sono letti per i quali ogni azienda ha le sue attrezzature immagazzinate e nel giro di 24 a 48 ore può piazzare all'interno dei settori operatori questo vuol dire aree di recovery room o sale operatorie dunque state sentendo l'intervento del dottor Rosi che parla proprio del sistema di monitoraggio poi sulla disponibilità dei posti letto nelle terapie intensive nelle subintensive e quello che è stato organizzato proprio per far fronte a questa emergenza io prima volevo che rispondesse Ciambetti al discorso dei tecnici che stavamo facendo con Beltramello sul fatto del dire Beltramello diceva tutta questa carellata di tecnici in realtà insomma un po' sposta il punto centrale proprio della discussione che è un'altra mi permetto di dire che quello che ho visto dal lunedì scorso in poi specialmente in ambito regionale specialmente in consiglio regionale con degli interventi che sono stati registrati che sono univerbali da parte di esponenti dell'opposizione chiedevano una verifica a 360 gradi dell'emergenza pandemica in Veneto mi pare che queste risposte siano in maniera puntuale approfondita e chiara portate da chi in questi mesi è stato veramente appunto sul pezzo e seguendo tutte le cose in maniera puntuale e precisa se adesso rispetto a una settimana fa qualcuno vuole derubricare a un piccolo periodo un fatto specifico ci mancherebbe può farlo però una settimana fa le richieste erano di fare una verifica ripeto di tutta la sanità del Veneto almeno quello che è rimasto a microfono quello che ho visto sulla stampa anche nei giorni scorsi quindi secondo me è quello che è stato detto e che si sta dicendo oggi in commissione è assolutamente utile serve a capire bene certe cose per chi non l'avesse capito io devo dire che nelle conferenze stampa del presidente Zaia dove questi tecnici hanno avuto un ruolo diciamo importante per l'informazione che sta data alla popolazione veneta e anche fuori perché erano seguite anche fuori dal Veneto queste queste conferenze stampa queste cose le abbiamo sentite dire in appunto mesi e mesi di informazione e ripeto trasparenza assoluta di quello che in Veneto è stato fatto negli ultimi mesi mi permetto un leggerissimo appunto prima Beltramelo parlava di dati da verificare io mi auguro che vengano verificati i dati fino all'ultimo perché ripeto sia nell'impostazione informativa ma anche nei rapporti di leale cooperazione con il governo il Veneto ha sempre trasmesso i dati puntuali precisi veri perché non si possono secondo me fare cose anche ripeto il gioco delle tre carte non si può fare con questi numeri e con questo sistema che abbiamo noi comunque di raccolta numeri e di trasmissione numeri a livello liberamento siamo l'unica ragione che dà due bollettini giornalieri informativi della situazione ULS per ULS ospedale per ospedale quindi sono cose che più trasparenti di così non si possono fare Beltramelo ecco qui mi sente? si è ancora collegato con noi Beltramelo mi sente riesce a sentirmi? si chiedo scusa perché per no interferire spengo il microfono quando non devo parlare tutto lì allora tanto la richiesta dei colleghi è sempre stata nel chiarire l'eccesso di casi di mortalità della seconda ondata e che ha purtroppo messo il Veneto per l'incidenza dell'epidemia e nella popolazione e per letalità e per mortalità sulla popolazione generale purtroppo nella seconda ondata è andata male è andata malissimo e su questo bisogna fare chiarezza e riguardo riguardo le richieste quindi sono molto puntuali di chiarire ma quando sento parlare del gioco delle tre carte del mandare i dati allora quando la dottoressa russo dice prima 4.000 casi al giorno erano una adesso non ho memorizzato la sua parola ma il concetto era un'enormità una catastrofe eccetera allora e come ho detto se noi vogliamo fare un tracciamento fatto bene ogni nuovo positivo ha almeno 10 contatti in media qualcuno 2 qualcuno 50 dipende quello che ha fatto nei 7 giorni precedenti quindi il tracciamento prevede che per ogni nuovo positivo io telefono e contatto tutti i suoi contatti e li metto in allerta li metto in quarantena li tengo sotto controllo dico loro che non devono più andare a lavorare eccetera allora 40.000 telefonate al giorno quindi 4.000 per 10 è impossibile il tracciamento non funzionava allora e anche su questo un sacco di persone anche questo si può verificare dagli amici i parenti che si sono infettati nella seconda ondata la maggior parte ti dicono purtroppo non mi ha chiamato nessuno ripeto non è che si fa una colpa ma se ci sono adesso dico 10 persone non possono fare il lavoro per cento fanno il lavoro per 20 magari ma non per cento e questo è accaduto anche nel tracciamento allora questo verrà chiarito ripeto però dal punto di vista epidemiologico stride che anche in quel periodo lì i nostri dati sul tracciamento erano i migliori d'Italia perché il tracciamento dovrebbe ridurre l'epidemia l'epidemia continuava a crescere quindi o l'una o l'altra cosa però bisogna andare lì quindi il dottor Rosi peraltro voglio dire è una persona che conosco da tanti anni per cui voglio dire però lui tecnicamente dice posti letto in terapia intensiva con determinate caratteristiche tecniche il Veneto ne ha mille e di attivi reali ne abbiamo 700 poi è stato interrotto di ci siamo pronti a reclutare come dire a reclutare il personale ad attività non essenziali per aprire quelli che mancano però adesso non so se lo dirà esplicitamente ma comunque su questo mi assumo la responsabilità e semmai di essere smentito successivamente il personale di cui parla non è personale di terapia intensiva questo perché tutto il personale medico e infermieristico della terapia intensiva era già occupato e le attività non essenziali voglio dire gli anestesisti che non si occupavano della parte della terapia intensiva per covid e anche quella fetta di persone che avevano bisogno della terapia intensiva senza avere il covid e facevano gli interventi chirurgici di urgenza di emergenza quindi non è che avanzavano anestesisti che erano lì a non fare niente quindi l'eventuale attivazione di questi posti letto extra di terapia intensiva avevano dal punto di vista tecnico certamente erano posti letto di terapia intensiva ma il personale come dire al limite si diceva ok viene un anestesista e lo facciamo aiutare da tre medici non anestesisti ma come dire per carità in uno scenario post nucleare possiamo immaginare una cosa del genere ma in uno scenario dove vorresti che se uno va in terapia intensiva sia una vera terapia intensiva gestita da un medico anestesista da un infermiere per formare un infermiere di anestesia per essere un bravo infermiere di anestesia ci vogliono tre anni e quindi quella è l'assistenza di terapia intensiva a 360 gradi nel momento in cui tu saturi il sistema è questo che stride allora perché saturi il sistema troppi infettati perché troppi infettati perché la malattia fuori sta circolando perché sta circolando zona gialla e senso di tranquillità continuamente iniettato da Zaia e da alcuni direttori generali che era tutto sotto controllo che non c'era problema che i servizi sanitari non erano saturi allora le persone poi alla fine dici sì però fate i bravi no scusami il mio cervello recepisce va tutto bene poi alla fine mi dici sì fate i bravi ecco una domanda ventramelo quindi è questo che ha generato tanti infettati troppi rispetto alla possibilità poi su questo voglio dirlo purtroppo purtroppo per questa malattia non c'è una cura noi abbiamo dei farmaci il supporto di terapia intensiva con l'ossigeno se è necessario l'intubazione ma non esiste una cura specifica per risolvere la malattia noi aiutiamo la persona a farcela ok quindi purtroppo non è come dire una terapia risolutiva noi abbiamo una serie di farmaci e di apparecchiature che supportano le funzioni vitali i respiratori della persona che alla fine deve farcela con il suo sistema immunitario con le sue come dire le sue doti di guarigione aiutate ci mancherebbe altro purtroppo però dei 100 persone che hanno bisogno della terapia intensiva ed entrano in terapia intensiva con il covid dipende dall'età però mediamente ne escono vive il 60% il 40% muoiono lo stesso quindi anche questa cosa di dire ammesso e non concesso che avessimo mille posti letto ma non è che il posti letto in terapia intensiva erano garanzia di saldare le persone e poi così a cascata per tutte le cose cioè non aver delegato come dire troppo al servizio sanitario si è fatto credere alle popolazioni che poi dentro c'era la bacchetta magica che tanto anche se ti ammalavi venivi curato sì voglio dire il tentativo c'è ma anche se ti curo al meglio e purtroppo quando c'è la saturazione sappiamo che questo diventa molto più difficile e in qualsiasi contesto non solo in sanità se tu lavori ripeto al 110% il problema è che anche se vieni curato al meglio non è che ti è garantito di guarire purtroppo quindi questa è una malattia grave quindi bisogna adesso diamo dei messaggi per il futuro vaccino vaccino e ancora attenzione perché questo weekend al di là della roba calcistica abbiamo visto credo tutti quanti una certa voglia di libertà che è comprensibile ma se io amo veramente la libertà devo stare attento perché l'infezione c'è ancora devo proteggermi proteggere gli altri proprio perché mi sta a cuore la libertà la ripresa delle attività economiche e di accettare il vaccino perché purtroppo in alcune fasce di popolazione il 30% dice di no questa è una cosa che a me preoccupa perché stiamo parlando di un'analisi del passato ma insomma due minuti diamoli anche per il futuro per il bene del futuro accettare il vaccino e prestare ancora attenzione l'uso della mascherina e il distanziamento sociale allora io volevo intanto salutare Ciambetti perché deve andare via mentre con lei rimango collegata perché poi io volevo anche chiederle un'altra cosa lei appunto parlava appunto di aver veicolato insomma un messaggio il presidente non come avrebbe dovuto essere in realtà insomma noi seguendo poi punti stampa quotidianamente insomma il presidente ha sempre detto bene o male insomma mi raccomando non abbassate la guardia perché il virus non è andato via il virus c'è ancora e quindi circola e quindi i contagi potrebbero aumentare da un momento all'altro e Ciambetti un ultimo commento su questo prima di salutarla stavo parlando giusto per correttezza stavo parlando del momento acuto no 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 anche nel momento acuto tale Luca Zaia non ha mai non ha mai detto è viva tutti i liberi è tutto a posto no non ho detto questo non mi metta in bocca però cose che non ho detto io non l'ho detto non mi metta in bocca io non l'ho detto lei non me le faccia dire cose che non ho detto scusa ma devo devo sganciarmi allora ripeto il presidente Zaia il presidente Zaia non ha mai detto alle persone di abbassare la guardia che tutto è a posto che tutto è perfetto quando c'erano situazioni di criticità citando i numeri giornalmente facendo vedere il tasso di presenza nelle telepie intensive sia covid sia non covid penso che i numeri più chiari specialmente all'inizio di conferenza stampa è anche il momento di massima attenzione per chi segue queste cose Zaia le ha sempre date se però ripeto c'era ben altro da fare il benaltrismo lo lascio ad altri scusatemi ma devo proprio sganciarmi perché mi stavano aspettando già un quarto da un'altra parte grazie scusate buon lavoro salve grazie dunque Beltrello finiamo un attimo questa discussione che lei stava dicendo insomma puntualizziamo il discorso del fatto insomma di questo messaggio secondo lei che sarebbe stato io non voglio essere fraintesi mi dispiace che sia io capisco è un politico di professione molto più bravo di me a fare politica sicuramente perché ripeto io non faccio il politico di professione il messaggio come dire alle persone è un po' come i figli se venivano date rassicurazioni che comunque il sistema sanitario reggeva che le terapie intensive calcolate su mille posti letto non avevano superato la soglia critica del 30% di occupazione per il covid perché anche su questo qualcuno dice eh madonna ne hai il 70% di liberi no è il 30% di occupate per il covid perché purtroppo le altre malattie continuano ad esserci c'è bisogno della terapia intensive anche per altre ragioni oltre al covid perché sarebbe oltremodo assurdo lasciar morire portare dentro le persone per il covid e lasciar morire fuori quelli che non hanno il covid che hanno bisogno della terapia intensiva quindi la soglia del 30% di occupazione data come soglia critica dal punto dal ministero è ragionata sul fatto di dire beh siccome normalmente già viaggiavamo al 100% praticamente di occupazione delle terapie intensive sapendo che ci sono magari un po' meno incidenti perché c'è meno stradali un po' meno di il 30% è ragionevole dedicarlo al covid sapendo anche che di una 200 per esempio in Veneto da 500 siamo passati a 700 di posti letto operativi reali quindi quella era la soglia se la calcoli su 1000 non l'abbiamo mai superata se la calcoli su 700 la soglia del 30% l'avremo superata intorno a metà novembre quindi il ragionamento è nel dire se queste percentuali hanno un significato operativo nel poter assistere le persone adeguatamente questo era l'obiettivo che si doveva perseguire quindi la conclusione era che ho perso un attimo il filo chiedo scusa non ho pranzato anche io come russo forse un po' di ipoglicemia il presidente Zaia dava sicuramente rassicurazioni non ha mai detto per cui non fatemelo dire non ha mai detto liberi tutti non ha mai detto andate fuori a mi scusi Beltramello sta parlando mi scusi le interrompo proprio solo un attimo perché sta parlando il presidente Zaia sentiamo un attimo quello che dice la sociale hanno fatto questo esattamente niente di più ho concluso ringrazio il dottor ci intervista sì ma no no lo dico in senso generale perdonatemi ma capite per dire guardate ma non lo dico ieri noi no no sì per carità ma scusate anche il tono molto colloquiale ieri mentre per l'ennesima giornata si discuteva di questo è passata la giornata per vedere solo il problema ve lo annuncio del bimbo di Castelfranco che è una situazione complicatissima ma molto complicata ho parlato in più occasioni con l'amministratore delegato di Novartis eccetera non è solo una questione di soldi ma è anche una questione etica e di responsabilità e leggere che c'è gente che va in giro a fare raccolta di firme all'università per la denuncia l'accademia almeno si informerà prima senza una denuncia ma fare non la vuole fare nessuno no scusate però capite a tutto c'è un limite scusate se possiamo riprendere un attimo l'ordine no 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 ecco vogliamo un attimo riprendere lascio la parola al dottor Francesco Benazzi di DG dell'US2 marca trevigiana buonasera a tutti mi permetto di intervenire anch'io anche per fare una chiarezza una doverosa chiarezza rispetto ai fatti che sono accorsi a Montbelluna nel senso che mi premeva ecco spiegare bene l'accaduto spiegare bene come si sono susseguiti i ricoveri spiegare bene il ragionamento delle bare una serie di condizioni che hanno posto un po' alla berlina in modo sbagliato errato all'ospedale di Montebelluna e soprattutto gli operatori di Montebelluna che sono persone qualificate che si sono date molto da fare in questa epidemia come voi ricordate nella prima ondata all'ospedale di Castelfranco aveva ospitato 50 posti letto di pazienti covid poi per rispettare ovviamente l'applicazione delle schede e il protocollo siglato tra la ULS e lo Iov il terzo piano dell'ospedale di Castelfranco in data 4-5-2020 è stato ceduto lo Iov arriva la seconda ondata chiaramente è una seconda ondata che per l'area dell'Asolano come tutti voi sapete è stata molto impegnativa provane sia che l'incidenza dei casi per 100.000 abitanti in quel periodo che va da novembre dicembre è stata di 616 contro una media dell'ULS di 439 ogni 100.000 abitanti quindi abbiamo avuto effettivamente ecco un aumento di casi legato poi si è visto anche alla variante inglese e quindi si decise il direttore sanitario dell'ULS decise dopo essersi parlato anche quei vertici dello Iov di sostanzialmente indirizzare l'ospedale di Montebelluna per i casi covid e lasciare indenne quindi covid free lo Iov in particolare per tutelare i pazienti che andavano lo Iov lasciarlo ovviamente libero da covid questo ha comportato una riorganizzazione che abbiamo fatto però mi preme dire che l'ospedale di Montebelluna sostanzialmente per quanto riguarda l'accoglimento di pazienti covid è limitato a dare 144 posti letto più 7 posti letto di terapia intensiva mantenendo comunque 92 posti letto non covid dove al secondo piano insisteva la cardiologia con 8 posti letto sia di temperatura intensiva e 4 posti letto di cardiologia normale al terzo piano 20 posti letto di area chirurgica e 14 di psichiatria e al quarto piano 18 posti letto di ostetricia 16 di ginecologia e 12 posti letto di pediatria quando si è voluto dire che è arrivato poi dopo i fatti che sono accorsi nei giornali si è arrivati all'ispezione ministeriale il periodo diciamo che precedeva questa ispezione che è stata il giorno 17 diciamo dal 10 al 18 si è asserito che sono stati spostati dei pazienti per dimostrare agli ispettori che c'era un calo sostanzialmente di ricoveri beh allora ricordo a tutti valutando ovviamente la dirigenza media e che chi conosce un po' le dinamiche delle dirigenze ospedaliere e della dirigenza media sa che ovviamente è naturale un osmosi tra chi entra in ospedale e chi viene dimesso e chi esce allora mi permetto solo di citare un po' di dati il 10 12 sono entrati in ospedale 15 l'11 12 15 il 12 12 21 solo la domenica perché ci sono meno entrate 6 ma comunque abbiamo mantenuto questa diciamo questa media di 15 14 persone in entrata e naturalmente altrettante in uscita ma legate a cose purtroppo abbiamo avuto il 15% di persone che sono decedute e questo è un dato che resta sono state dimesse a domicilio il 43% delle persone sono state dimesse presso RSA quindi strutture in questo caso il nostro era Valdobiane che l'avevamo attivato da poco il 18% e trasferite poi in un'altra della medesima struttura in un'altra unità operativa chiaramente la riabilitazione dove noi utilizzavamo circa 32 posti letto per passare i pazienti dalla fase acuta alla fase riabilitativa quindi quando sono arrivati gli ispettori hanno trovato quello che si doveva trovare abbiamo sempre accolto pazienti acuti al pronto soccorso non abbiamo mai ovviamente dirottato pazienti acuti in altre sedi ma solo per dimissione pazienti che ovviamente erano già stabilizzati che erano in fase riabilitativa questo ad onor del vero per evitare che si dicano cose che non sono reali questo è verificabile con dati si può venire lo hanno verificato anche gli ispettori del ministero quindi credo che sia patrimonio comune per quanto riguarda il personale anche qui è stato detto che noi abbiamo assunto dopo la venuta degli ispettori la gente per pareggiare ecco no devo dire che da marzo a dicembre 2020 a seguito delle assunzioni fatte da lui sono stati assegnati l'ospedale di Montembluna 108 operatori sanitari di cui 16 medici 43 infermieri e altro personale del comparto però attenzione questo è stato fatto solo in occasione di ovviamente un avviso che ha fatto l'azienda zero che ha una data post ovviamente l'arrivo degli ispettori quindi non c'è anche qui un'associazione all'aumento del personale ma siamo andati a pescare una gradatoria che è diventata attiva dopo e chiaramente abbiamo portato a casa tutto quello che potevamo portare a casa perché evidentemente come tutti sapete gli specialisti si faticano a trovare in particolare pneumologi in particolare anestesisti in particolare internisti in quel periodo è un periodo difficilissimo tant'è che se abbiamo anche accorpato qualche unità operativa l'abbiamo fatto per portare i tempi di assistenza da 190 a 2,30 proprio il minutaggio assistenziale proprio perché c'erano pazienti impegnativi per quanto riguarda e chiudo perché non voglio ecco la data è del 19 dicembre 2020 quando è stata approvata la graduatoria dell'azienda zero quindi in poche parole dopo l'arrivo dopo l'arrivo degli ispettori abbiamo iniziato a assumere perché abbiamo ovviamente preso 86 persone da quella graduatoria l'altro caso che si era instaurato era quello dell'obitorio se vi ricordate anche qui volevo dire una cosa ci siamo mossi la direzione america si è mossa in scienza e coscienza sostanzialmente perché? perché era una questione etica l'obitorio in Montebelluna può tenere fino a 32 bare non abbiamo mai superato quel numero ma avevamo ovviamente i sacerdoti ma soprattutto le famiglie positive covid positive che ci chiedevano di rallentare quei 5 6 4 giorni perché ovviamente volevano partecipare almeno un familiare al funerale del proprio congiunto per cui non abbiamo fatto altro che fare questo niente altro quindi è con massima limpidezza sono a disposizione per dare tutti i dati che ho da poco citato e anche ulteriori dati grazie ringrazio anche il dottor Benazzi io devo sospendere la seduta per 10 minuti per sanificare fino alle 16 avete sentito i dati forniti dal direttore generale dell'Ulss2 Francesco Benazzi che ha parlato dell'ospedale di Montebelluna che fu oggetto di un'ispezione ministeriale poi finita insomma fortunatamente nel nulla tutto era fu regolare e ha dato dei chiarimenti in merito a questo adesso la seduta è stata sospesa l'avete sentito per una decina di minuti per sanificare ovviamente tutta l'aula e poi riprenderà mancano penso pochissimi ormai tecnici forse uno o due e poi dovrebbe esserci l'opposizione che parla io saluto perché lo vedo sullo schermo perché è arrivato Luciano Sandonà consigliere regionale della Lega buongiorno 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 allora prima di tornare a parlare con Beltramello con cui poi avevo una domanda da fare lei ha sentito un po' tutto il dibattito che c'è stato un escursus insomma lungo con i tecnici ognuno ovviamente per settore che ha riportato i dati insomma del proprio comparto spiegando un po' tutto lei si è fatto un po' un'opinione di come sta andando insomma questa commissione ma ho visto una ho visto innanzitutto in un certo delle cifre dei numeri quello che è stato l'impegno straordinario lo sforzo straordinario della sanità veneta nell'anno diciamo in questo anno poco più di un anno di pandemia che ha travolto un po' le tutte diciamo le sanità regionali di tutto il paese però direi che la sanità veneta ha risposto alla grandissima e non solo la sanità veneta ma anche il presidente Zaia che con l'assessore alla sanità Lanzarini sono stati presenti diciamo H24 ad affrontare ad affrontare questa pandemia quindi io direi che oggi le risposte o comunque così tutta l'analisi che si sta facendo dello sforzo del grandissimo sforzo organizzativo tecnico medico messo in campo dai nostri grandi specialisti dalle nostre grandi diciamo dai grandi medici e da coloro che hanno in mano la sanità del Veneto è stato notevole e è stato riportato in commissione direi con molta chiarezza e molta esaustività ecco Beltramello dovrebbe essere collegato ancora con noi sì sì eccomi qua dunque ha sentito adesso c'è stato anche insomma il chiarimento da parte del 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 dottor Benazzi dell'Ulss2 e insomma sì in merito se posso dire allora intanto concludo quindi il problema riguardo alle rassicurazioni che dava Zaia e anche alcuni direttori generali era che il sistema era in equilibrio che non c'era saturazione che non c'erano problemi fuori dall'ordinario non gestibili in realtà eravamo totalmente fuori dall'ordinario totalmente fuori dal gestibile dal normale e questo come dire è quello che hanno detto i medici quindi anche l'inizio dell'incipit dell'intervento del dottor Benazzi a me ha fatto personalmente molto male perché lui ha detto questo queste affermazioni sull'ospedale di Montebelluna che hanno messo alla berlina l'ospedale il personale no 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 questo no non ne va bene perché in realtà tutto quello che è accaduto riguardo l'ospedale di Montebelluna è partito perché il personale della pneumologia il personale della medicina interna ha scritto una lettera a lui dicendo non ce la facciamo più l'ho riassunta abbastanza brevemente le assicuro che il senso era questo e siccome dicevano non ce la facciamo più siamo troppo pochi c'erano 4 pneumologi posso sbagliarmi di una unità e 8 intensivisti per i numeri che ha dato lo stesso dottor Benazzi loro hanno detto il carico di malati che ci arriva è insostenibile non ce la facciamo più abbiamo bisogno di aiuto di modificare e a fronte del fatto che non sono stati ascoltati con questa lettera che allora c'è stato diciamo il caso Montebelluna nel dire guardate che qui le cose non vanno bene e da lì poi c'è stata la visita del ministero ma l'incipit è stato proprio perché il personale non ce la faceva più e ha avuto il coraggio di dirlo allora tutta la vicenda di Montebelluna ha cercato di dare un aiuto e una risposta che era invece rimaneva inascoltata al personale in prima linea che le vite le salvava e che ha fatto questo grido di aiuto quindi mi dispiace che adesso si giri la frittata dicendo che la vicenda di Montebelluna ha gettato ha messo alla berlina testuali parole il personale di Montebelluno non è stato proprio messo alla berlina niente semmai si è sottolineato il loro eroismo altro che messo alla berlina e questo diciamo mi ha fatto veramente molto dispiacere il dottor il dottor Benazzi è un collega e quindi comunque queste sono considerazioni del tutto personale ho visto che la Lega si è data la staffetta adesso è arrivato il consigliere Sandonà che ha ripreso con l'elogio il panegirico che tanto siamo i migliori al mondo Zaya è il migliore di tutti gli universi possibili che altro c'è da aggiungere io dico solo che in una democrazia vera tanto più è forte il leader tanto più si confronta con le minoranze in modo trasparente e aperto quindi voglio dire mi spiace dirlo consigliere Sandonà ma Zaya non ha bisogno che lei lo elogi eccetera perché se veramente siamo in una democrazia in questo Veneto non siamo già passati in una dittatura è normale che di fronte ad un evento drammatico catastrofico per la popolazione ci sia un confronto tra minoranze e chi il potere ce l'ha questo avviene in Germania avviene in Inghilterra avviene in Italia e per fortuna avviene anche in Veneto e quindi la risposta non è dire tanto noi siamo i migliori dell'universo comunque vadano le cose perché a parte che lo pensa lei io non condivido ma anche se fosse vero comunque se qualcuno pur come dire in una media di ottimo sbaglia risponde di quello che sbaglia e io non credo comunque su cui abbiamo opinioni diverse sul fatto che governate bene o male questa regione ma non è questo il problema il problema è che chi ha il potere ha la responsabilità ha il diritto dovere di governare e ha il diritto dovere e ha anche il dovere di rispondere di quello che fa e che non fa si chiama democrazia io capisco che vi stia stretta però come dire finché si chiama così ve la dovete far andare bene mi spiace ma insomma perché adesso c'è anche la staffetta del come dire del pane girico del migliore dei mondi possibili va bene allora io dico che nelle società civili e democratiche il confronto di fronte ai venti drammatici è doveroso e garantito ai cittadini mica a noi delle opposizioni ovviamente adesso le faccio rispondere da Sandonà perché sentivo che stava cercando lì è un po' stuzzicato evidentemente sono molto tranquillo e anche molto democratico certo in Veneto in Veneto il presidente Zai ha avuto un consenso e la sua coalizione che ha numeri da brividi insomma è dal 77% quando c'è stato ad esempio a proposito visto che parlate di democrazia il servizio di report ricordo che lì è stato dato spazio a 5 dicaci 5 esponenti del partito democratico che fra l'altro conosciamo molto bene insomma nella nostra regione che è da nessuno da parte della maggioranza questa è la democrazia per esempio che viene esercitata nella televisione pubblica ha parlato Zaglia in quell'intervista non so se l'ha notato per me Zaglia è della maggioranza oppure è passato al PD perché a me risulta che erano poi in tre in quell'intervista nel PD quindi mi ha messo Zaglia dentro il PD io non l'ho interrotta dottor Bertamello quindi gradirei anch'io concludere il mio intervento perché lei ma sai io sono qua da due ore se non faccio anche una battuta vado sotto la segna tra un po' quindi Zaglia è passato al PD dentro l'intervista direttore allora facciamo parlare Sandona un attimo io l'ho lasciata parlare anche se ha detto delle cose con cui in cui non ero assolutamente d'accordo per esempio il concetto di democrazia noi abbiamo ribadito per esempio che siamo d'accordo in una commissione d'inchiesta guardi lei quanto antidemocratici siamo in regione siamo d'accordo anche su altre cose non si è mai sottratto al confronto e la giornata di oggi la giornata di oggi la dimostra tra l'altro volevo chiederle se questa inchiesta dell'ospedale di Montebelluna e sono d'accordo pienamente col direttore generale Benazzi io fra l'altro sono fiero della sanità veneta fiero di essere veneto e di essere curato in veneto a differenza di quello che dite voi e gli esponenti diciamo molti esponenti del PD che purtroppo hanno gettato come ha detto Benazzi discredito nella nostra sanità e in particolare volevo chiederle sull'ospedale in Montebelluna se poi da questa ispezione ministeriale era uscito qualcosa perché a me risulta che questa ispezione ministeriale che è costata dei soldi ed è costata dei denari ai contribuenti poi non abbia portato a nulla e quindi il risultato finale è proprio quello che diceva il direttore generale Benazzi cioè ha gettato solo fango e discredito su degli operatori che lavorano in prima linea costantemente magari non fanno attività sindacale sia chiaro ma fanno attività proprio in prima linea con i pazienti covid e io sono fiero di queste persone che hanno messo a repentaglio la propria vita e ci hanno curato meglio di altre regioni questo sono assolutamente d'accordo sul racconto che lei dice favoreggiante del Veneto il Veneto è l'ottavo posto nel rapporto fra persone decedute purtroppo per covid e popolazione nella 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 penisola italiana davanti a noi purtroppo ci sono altre regioni che hanno dei numeri leggermente leggermente più alti ecco questo significa governare bene la sanità e governarla come l'ha fatta il presidente Zaia non a caso alle elezioni quando ci siamo ripresentati ha ottenuto un consenso un consenso più che più che bulgaro mi verrebbe da dire quasi incredibile una democrazia moderna che non si era mai verificato in nessuna in nessuna democrazia moderna qui si vota ancora liberamente e se più di tre persone su quattro hanno dato il loro voto al presidente Zaia un motivo c'è e il motivo c'è anche in quel tipo di opposizione che state facendo anche oggi in commissione diciamo in sesta commissione sanità con un approccio che mi permetto di dire è del tutto sbagliato e ingiustificato perché le accuse che sono state virgolette accuse che sono state diciamo lanciate tramite la televisione pubblica ricordo un canone pagato da tutti gli italiani intanto sono inconsistenti perché non ho ancora capito bene quali sono le accuse relative ai tamponi rapidi utilizzati in maniera massiccia dal Veneto che hanno permesso fra l'altro di individuare tantissimi positivi che non si sperano di individuare e poi sinceramente mi sembra di assistere a un processo nei riguardi invece di una sanità del Veneto che si è comportata alla grande e ha salvato tantissime vite umane questo volevo dire allora io volevo tornare un po' sul sul tornare sul focus della commissione che dovrebbe riprendere penso ormai a momenti e volevo anche ricordare che siamo veramente ormai agli sgoccioli per quanto riguarda i tecnici dovrebbero veramente mancare forse uno o due tecnici e poi la parola passa all'opposizione mi è consentita una replica sì certo appunto grazie le lascio la replica a San Donato e poi do una piccola pausa pubblicitaria allora vedete la sottigliezza con cui i politici di professione qui ne abbiamo un altro si sono dati la stafetta non sono di professione l'altro io lavoro ho il mio studio ho sempre lavorato nel mio vita mi sembra abbastanza bene sono stato votato dai cittadini certo va bene i politici di professione se lei non lo è non sono un politico di professione va bene allora ho uno studio professionale in attività che ho sempre esercito iluisce il problema allora sposta l'attenzione e dice voi del PD state attaccando i medici e la sanità del Veneto intanto sarei masochista perché lei non c'era prima ma io sono un medico e non sono masochista quindi noi stiamo attaccando alcune scelte fatte dalla politica in particolare da Zaia e collegato durante la seconda ondata quindi un periodo molto breve non diluisca dall'inizio a oggi stiamo parlando dell'eccesso di mortalità della seconda ondata che ha avuto il Veneto e i dati sono incontrovertibili il personale sanitario è stato non bravo è stato al di là di ogni come dire immaginabile risposta in termini di positività il problema non è il personale sanitario è che voi politici visto che lei fa parte della maggioranza l'avete messo a lavorare in una condizione insostenibile tanto che appunto a Montebelluna lo hanno anche scritto e hanno chiesto non ce la facciamo più e la visita del Ministero non è che c'è stata perché noi abbiamo il telefono al Ministero nessuno ha chiamato il Ministero è andato è andato lì perché ha ravvisato che c'era qualcosa che non andava perché è emerso che non proprio partendo dai medici quindi non è che anche lì mistificate come se il PD avesse chiamato l'ispezione del Ministero cioè questa è una vostra costruzione mentale c'è stata un'attenzione legata all'ospedale di Montebelluna perché c'era un sovraccarico tale collegato poi alle bare che hanno fatto notizia collegato alla lettera del personale collegato alla stampa locale che ovviamente si occupava di quella roba lì ed è arrivato a un'attenzione tale che il Ministero ha deciso di andare a vedere cosa succedeva ma nessuno l'ha chiamato non è che il PD ha telefonato al Ministero tra l'altro il Ministro della Sanità neanche del PD quindi voglio dire non c'è neanche questo collegamento e quindi anche qui è un tentativo di mistificare come se noi avessimo voluto cioè voglio dire guardi che tutto è partito perché non ce la facevano più i medici è partito da lì e il personale quindi stiamo parlando di un sovraccarico e loro non hanno mollato la nave però come dire se vedi che c'è la burrasca e i tuoi mezzi sono insufficienti rispetto alla burrasca che stai affrontando chiedi aiuto e ti aspetti che venga data risposta a questa richiesta di aiuto questo è successo a Montebelluna poi voi potete girarla come dire come girate tutto e dico anch'io una bella cosa io sono veneto sono nato in Veneto ho studiato medicina in Veneto mi sono specializzato in Veneto ho lavorato all'estero sette anni poi sono tornato in Veneto parlo quattro lingue ho allargato un più i miei orizzonti ma sono rimasto Veneto amo il Veneto i miei figli sono Veneti la mia compagna è Veneta e voglio che questo Veneto sia migliore per i miei figli quindi questa narrazione che il Veneto sta a cuore solo a voi ma così come i miei figli se sbagliano qualcosa io non dico tu sei sempre necessariamente il miglior figlio del mondo ma credo che sia educativo e pedagogico per ogni essere umano e anche per una società che se si sbaglia qualcosa si analizzi cosa sia sbagliato per evitare di sbagliare nuovamente in futuro allora se invece il suo atteggiamento pedagogico è quello di dire che comunque qualsiasi cosa venga fatta sia sempre i migliori dell'universo io non condivido questo atteggiamento come padre come persona come medico come politico come tutto perché anche la migliore persona se fa un errore deve fermarsi analizzare quell'errore capire perché è stato fatto ed evitare di ripeterlo in futuro e dire sempre che invece siamo i migliori che non ci sono universi sufficienti per dire quanto è bravo è sempre il migliore dell'universo Zaia questa roba qui non fa bene soprattutto a voi non fa bene soprattutto al 70% delle persone che vi hanno dato la fiducia allora io devo fermarvi un attimo perché c'è una piccola pausa pubblicitaria poi torniamo in studio e faccio anche parlare Sandona quindi pubblicità un attimo poi torniamo in studio anche perché ricomincia fra poco anche la riunione in commissione